Si chiude con un successo che rispecchia le qualità dell'Amen, Scuola Baschia e Terezzo il girone di andata del campionato di Serie C con gli Amaranto che ribaltano il match casalingo con Pontedera nei minuti finali quando sembrava oramai una partita persa. Con questo spirito combattente che la squadra di Pacini ha mostrato in questa prima metà di stagione, l'Amen ha chiuso l'andata al secondo posto solitario in classifica alle spalle dell'imbattuta labronica uscendo dal campo tra gli applausi convinti del Palasport Estra che ha sostenuto questa squadra fatta in casa che sta regalando tante soddisfazioni. La gara è stata molto difficile per i colori Amaranto, Pontedera ha preso in mano le redditi del gioco fin dei primi minuti imbrigliando la coppia a cutini-fratini e costringendo gli aritini a segnare col contagucce. Il bottino a referto dell'Amen nei primi 30 minuti di gioco è stato di soli 32 punti segnati rimanendo in partita solamente grazie a una difesa che pur soffrendo la maggior fisicità a rimbalzo degli ospiti è riuscita a non far scappar via Pontedera. Nell'ultimo quarto poi la svolta è arrivata dalla coppia Gramaccia-Liberto, il capitano Amaranto dopo un paio di penetrazioni vincenti del compagno realizza tre triple consecutive che ribaltano il punteggio. Pontedera accusa il colpo non costruendo più un attacco con la fluidità della prima parte di gara, così ancora Gramaccia firma con altre triple la definitiva vittoria Amaranto ottenuta nel finale con un punteggio di 59 a 46, impensabile a soli 10 minuti dal termine. La SBA ha infatti tramortito gli avversari con un 27 a 5 nel momento decisivo del match trovando energie nel momento in cui la squadra di Pacini si trovava con le spalle al muro, una voglia di lottare di non arrendersi che sta consentendo all'Amen di avere un rendimento eccezionale in questo campionato. C'è poco tempo per festeggiare domenica Amen ancora in casa al Palace Porta Estra contro il Livorno, una partita da approcciare con una mentalità combattiva per non sprecare quanto di buono fatto contro un avversario di rango come Pontedera. Hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo i nostri ragazzi giovani e meno giovani e abbiamo vinto ancora una volta e chi è stato a casa non si è visto questo spettacolo, questa veramente importante. Senza dubbio Carlo, io vorrei analizzare velocemente questa partita con due cose particolari. Una il fatto che abbiamo vinto grazie alla difesa pur non avendo forse la punta di diamante difensiva nostra che è Claudio Castelli. Però la nostra squadra già è impostata sulla difesa per cui il risultato poi si è visto e anche vorrei spezzare una lancia in favore di chi lavora dietro e in silenzio, il dottor Simone Marraccini. Perché? Perché se andiamo a analizzare praticamente l'ultimo quarto, quando in una partita nell'ultimo quarto si gioca 26 punti a 5 vuol dire che fisicamente li hai sovrastati. Probabilmente il fatto di essere rimasti sempre più o meno a tiro pur non giocando una grande partita poi evidentemente la condizione fisica esplosa e evidentemente i giocatori ce li abbiamo e i ragazzi hanno una verve, una voglia e una volontà che unita a quella degli anziani possono essere esplosive.